L'inchiesta sull'acqua torbida al Gran Sasso, subito scaricata per evitare contaminazioni della rete idrica, ha avviato i primi passi in un'indagine che si preannuncia complessa. Come riportato dal quotidiano Il Centro, nella giornata di ieri i magistrati hanno effettuato un sopralluogo approfondito durato quasi 5 ore nelle condotte del sistema acquifero. L'indagine, attualmente contro i gnoti, è stata avviata in seguito alla fuoriuscita di acqua torbida durante i sondaggi preliminari per i lavori di messa in sicurezza. Hanno chiesto di visitare i luoghi oggetto di questi eventi, sono dei luoghi particolarmente impervi per il cui accesso è necessario che ci sia personale della Ruzzoreti con delle attrezzature specifiche e quindi li abbiamo ovviamente accompagnati sul posto. La cosa che va specificata è che non c'è mai stato un problema sulla qualità delle acque della Ruzzo? Assolutamente no, anzi noi abbiamo approfittato anche per far vedere alla procura tutti i sistemi di sicurezza, anche quelli più nuovi che abbiamo installato e insomma abbiamo ribadito questa cosa, hanno avuto modo anche loro di constatarlo di persona. Ad oggi ancora non si conosce quando verranno riavviate le indagini preliminari, passaggio essenziale per avviare il mega intervento di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso. Io questo non so, questo bisognerebbe chiederlo al commissario come intendono muoversi. Sicuramente noi adesso stiamo partendo con degli accertamenti per cercare di capire che cosa è accaduto quel giorno, se è effettivamente un fenomeno svincolato dalla presenza del commissario oppure di carta naturale, magari non solo una microfrana all'interno dell'acquifero oppure se era qualcosa di connesso. Più che altro lo vogliamo capire per agire di conseguenza e per evitare che si rivelifichi in futuro. E proprio sulla tipologia delle indagini la Ruzzo chiede un intervento diverso che permetta di tutelare il bacino idrico. Noi anche in Commissione in Regione abbiamo ribadito l'esigenza della costruzione del revamping, nel nostro caso del potabilizzatore, all'ingresso della Galleria del Gran Sasso proprio per evitare in futuro che si verifichino questi episodi perché la torbidità che è fango all'interno dell'acqua viene gestita benissimo da un potabilizzatore. Noi abbiamo fatto le analisi in quei giorni, non c'era nessun livello batteriologico, era semplicemente acqua e fango. Ovviamente non può essere distribuita acqua e fango, però in questi casi qui il potabilizzatore è derimente, nel senso che la sua presenza fa sì che si possa trattare l'acqua, ripulirla dal fango e distribuirla senza problemi. Quindi abbiamo ribadito l'esigenza della costruzione del potabilizzatore.